Ciao ragazzi, ciao ragazze, buongiorno, benvenuti in un nuovo video, un nuovo vlog ho settato la macchina, spero che le luci vadano bene, a differenza di prima che erano fin troppo bianche allora, vi porto nel mio frigo sto pensando a cosa cucinare, in realtà oggi voglio fare qualcosa di diverso qualcosa di più... anzi, di meno salutare in questi giorni vi dirò, ma sto cucinando tantissime verdure, sto mangiando tantissime verdure e a differenza di altri, io sto dimagrendo, incredibile comunque, vi porto nel mio frigo e scegliamo insieme cosa mangiare vi avverto, il mio frigo è parecchio disordinato c'è tantissima roba, me ne rendo conto però è anche tanto disordinato quindi ora scegliamo insieme, anche se ho una mezza idea in realtà vorrei fare i ravioloni, quelli al tonno pepe e li faccio vedere, sono quelli che ho preso da Lidl allora sì, questo è il mio frigo e qui c'è parecchia roba allora, qui ci sono tutti i ravioli allora, aspetta, no sì, questi sono medaglioni non sono ravioli, sono medaglioni con tonno, capperi e olive taggiasche ero curiosissima di provarli sicuramente le mie aspettative sono altissime rispetto a quello che sarà il saipore di questi ravioli però, la settimana deluxe a Lidl a me piace tantissimo infatti ho preso tralasciate questo dettaglio ho preso che non è della settimana deluxe no, sì, quelli sono della settimana deluxe li avete visti, sono quelli con il salmone e sono gli gnocchi ripieni sono questi qui sono gli gnocchi ripieni di salmone gli altri che mi incuriosivano a parte, vabbè, questi qui sono invece gli gnocchi ripieni al gorgonzola ce l'ho fatto delle scorte che neanche, assurdo ho preso questi qua i ravioli alla zucca e amaretto sono buonissimi anche questi e poi, vabbè, ho preso quelli con il busto grudo no, ho preso perché non li trovo? ma dove li ho messi? ah, eccoli ah, devo fare i finocchi al forno quindi li esco tra l'altro ho fatto l'altra spesa solo che non sono riuscita a fare lo svuoto alla spesa proprio perché perché abbiamo finito tardi cioè, ho finito tipo alle 6 il frigo che suona ho finito tipo alle 6 e mezza di pomeriggio quindi era troppo tardi e non sono riuscita più a girarlo ci sono anche questi che mi incuriosiscono tantissimo e sono i ravioli ricotta e pistacchio e sai che ora sono proprio indecisa se ricotta e pistacchio o quelli al tonno faccio un sondaggio su Instagram e ora vediamo cosa decidete sondaggio su Instagram appena pubblicato eccolo qui aspetta che mi si sono aperte le altre storie eccolo qui se non mi seguite su Instagram andatemi a seguire su Instagram mi trovate come Valentino89Kiss2 vi aprirà qui sotto il nome del del nick il nome del nick il nick di Instagram ragazzi ormai cioè guarda ormai sto assumendo proprio le sembianze di uno zombie sono vicina 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 e tra l'altro non mi sta piacendo più il colore dei dei capelli non so perché ma si sta scaricando così tanto che sta diventando quasi arancione non lo so fatemi sapere con un commentino se vedete un giallo o un mezzo arancione sui capelli comunque fatemi sapere anche con un commentino cosa avreste scelto voi avreste scelto voi se quelli al tonno oppure quelli ricotta e pistacchio io nel frattempo vado a tagliare i miei finocchi anche se mi sa che nel frigo ho quelli che ho comprato settimana scorsa no si si ciao ormai io con i giorni tre giorni fa o quattro giorni fa non me lo ricordo quando ho pregato l'ho svuota la spesa no l'altro giorno è venuto un mio amico cioè l'ho comprato il mio amico quindi si si è venuto ha portato la spesa semplicemente e quindi si andrò a cuocere gli altri eccomi qua allora si no i finocchi stavo contro bene e sono di tre giorni fa ed è appunto questo mio amico che ha una bancarella di frutta che è amico che amico l'avete visto in un video il video recensione la recensione on the road che ora purtroppo non si possono fare più e dicevo si li ho presi da lui che stavo dicendo ah si già mi immagino commenti del tipo ma tu sicuramente la quarantina la stai facendo male già il fatto che sono tutta piegata così sicuramente tu la stai facendo male non la stai facendo proprio ragazzi io esco soltanto per andare a fare la spesa ormai non so se è da voi è solo da me o è anche da voi ma sta diventando tipo un lungo natale tutte le feste insieme le stiamo prolungando tutte insieme è un continuo cucinare oggi stavo pensando di fare anche la focaccia comunque i finocchi per la prima volta non li farò al forno oggi ma li farò in padella li metto direttamente in padella li taglio così come li taglio per farli al forno però li farò in padella gli aggiungerò dei pomodorini poi aggiungerò un po' di origano però quello spray della Lidl e poi poi non lo so piano 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 ricordo cosa mettere dentro e glielo aggiungo ah mi è capitato l'altro giorno al supermercato per questo mi stavo venendo di mettere tu non sai fare la quarantena c'è chi pratica bene e ragionava male che è successo è successo no è stato ieri ieri sono andata a fare la spesa sono andata a fare la spesa e praticamente qui da noi sicuramente da quasi tutte le parti in tutte le città i paesi da noi funziona che il butta fuori o la butta fuori in mio caso era una donna sono persone non voglio vabbè sono persone sono donne con capito cioè di quelle ci siamo capite insomma stava raccontando che due giorni prima si era andata praticamente una signora incinta ed era andata anche la settimana scorsa e voleva entrare lei e la sorella e hanno continuato ad insistere perché ora si può entrare una sola cioè ora solo una persona può andare a fare la spesa fino a due settimane fa potevano entrare anche in due insomma e insomma continuava ad insistere alla fine ha preso due carrelli e hanno finto di essere due clienti diversi e allora dice che la tizia la signora quella li fa vabbè ma cioè mi stai prendendo in giro cioè ringrazia che non ti mando dove ti devo mandare per quella povera creatura che è dentro la poteva che li vedi siamo arrivati quella li voleva alzare le mani però non le l'ha alzate perché era incinta perché a me l'ha presa per il culo non piace va bene nemmeno a me comunque vabbè alla fine non gli ha fatto niente la signora è incinta probabilmente partorirà però giustamente diceva quella sei incinta ma fallo per te fallo per tuo figlio però poi se ne esce con un discorso del tipo ma vedi domani io ho la giornata libera faceva la signora la tizia la bodyguard ma io ho la giornata libera che devo stare a fare ma resto a casa no di uscire no non esco non mi va sono proprio stanca e ma pur sei posto dove devi andare perché c'è la quarantena il massimo che puoi fare è quello di venire a lavorare comunque ragazzi finisco di tagliare i pinocchi e poi vi faccio vedere come li condisco e come li cuocio anche perché poi devo capire anche il sondaggio se hanno vinto quelli i ravioli al tonno oppure la ricotta con il pistacchio infatti mi stavo nel proa scogliosi devo spendere la stanno giocando non bene di più tanto che sta praticamente vincendo ma per pochissimo quella ricotta e pistacchi allora ti dirò nel frattempo mi sono decisa e ho detto no vabbè io ho tanta voglia di sushi uguale mi sa che faccio questi qua tonno capperi e olive tagliasche scusate ragazze ma una volta farò di testa mia perché ho il naso rossa perché mi sono decisa ah nel frattempo vi faccio vedere come stanno andando appunto i finocchi si appassiscono in questo modo e sono super 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 buoni ho aggiunto un po' di pepe un po' di sale e giusto un filo d'olio niente di più e non ho messo neanche l'origano quello lì il spray questo qui di Lidl perché alla fine ho detto vabbè chi se ne frega lo lasciamo un po' più al naturale che altro ah di secondo invece andrò a preparare le ho comprate prima anche su questo sono decisa se fare questi qua che sono hamburger di verdure spinaci e piselli questi qui oppure perché in realtà oggi avrei voluto fare le polpette però non quelle al sugo le volevo fare al quelle al forno con prezzemolo pangratta cioè l'impasto è sempre lo stesso però fatti al forno oppure in padella oppure faccio questi burger di mare sono fatti così no faccio quello di verdure faccio una cosa le faccio due due buon appetito nel frattempo sono passate diverse ore e ti dirò mi sono fatta una dormita di quelle che non mi facevo dalla vita no ho dormito tanto perché ho dormito dalle tre di pomeriggio fino alle sei quindi ho dormito tre ore allora volevo fare una breve recensione su questi medaglioni tonno capperi e oliveta giasche che apparentemente sembrano allora io li ho saltate poi con un po' di burro fuso e non c'è moscata mi arriva non c'è moscata non c'è moscata perché non avevo la salvia avessi messo un'altra cosa probabilmente sarebbero stati meglio non sanno di nulla ma di non sanno né di tonno né di olive né di di che altro di di cappe cioè zero proprio zero ma zero di zero che col sello di poi mi sento quasi in colpa per non aver ascoltato voi su quelli ricotta e ricotta e pistacchi vabbè comunque mi è arrivato un pacchettino cioè non me lo aspettavo ho suonato il corriere noi tipo cosa yeah yeah sei il film degli zombie uguale allora è arrivato il corriere ed è arrivato con un pacchettino che ora ti vado a prendere scusate la luce soft della mia camera da letto di pomeriggio è arrivato questo che arriva devo andare a vedere devo andare a controllare sulla mail è arrivato con il pacchettino sai quello di amazon no non ce l'ho qui dove ho messo il pacchettino di amazon vabbè ora lo trovo e ritorno nel senso che non nel senso che ritorno nel senso che dovevo fare volevo fare l'unboxing però è già stato unboxato quindi niente allora praticamente fammi abbassare il volume della tv allora niente sono ritornata in cucina perché ho trovato il mio appoggio ovvero il portaspezie sì è lui allora mi sono arrivate queste cuffie della Arbidin spero si pronunci così allora sono delle cuffie wireless ora le andiamo a unboxare insieme e io devo ringraziare Karen mi è arrivato cioè nel senso sono andata a recuperare non mi è arrivato sono andata a recuperare sì mi sono arrivata tramite Amazon e sono andata a recuperare il link proprio per vedere sia il prezzo che per capire con voi niente vi lascerò comunque il link giù nel box informazioni sono fatte in questo modo io non le ho ancora aperte aspettavo appunto di girare il video per per aprirlo insieme ho già spoilerato qui un po' su su Amazon il prezzo è di 39 e 99 però ecco se ne vale la pena ok allora considerando che c'è ancora tantissima gente questa è la parte più figa momento ASMR e poi ritorno al discorso wow dicevo c'è ancora gente che in macchina prima della quarantina se ne va girando col cellulare in mano e quindi è giusto avere delle auricolari e questo lo dico per per cosa mia e comunque sono fighe allora si aprono così e quindi sono scariche ok sembrava un po' più rigido no era proprio così ok sono su ragazzi mi giuro sembrava una saponetta mi uscivano dalle mani allora ah sono fatte proprio così vediamo vabbè vabbè dicevo comunque Karen che è la persona che mi ha contattato per chiedermi se volessi provare recensire questi auricolari è stata veramente gentilissima in più veramente la dolcezza infinita quando mi ha scritto tramite mail so che non è un bel momento per voi lì in Italia nel frattempo si erano un attimo bloccati con con gli ordini quindi mi ha detto guarda con calma facciamo tutto poi ti invio ti invio il tutto comunque si accendono in questo modo qua bisogna soltanto tenerle premute e niente si accendono ora vedo se riesco a collegarle al cellulare perché sono un attimo impedita su queste cose e qua ci sono anche e quindi niente ho apprestato tantissimo il gesto non lo so è una cosa che che io apprezzo tanto e qui che cosa c'è ah c'è il cavetto per ricaricarle questo va bene anche per ricaricare il mio cellulare oppure per ricaricare la nuova Icos ma io ho smesso di fumare non so se ve l'ho detto sono tipo 12 giorni infatti giorni che siamo in quarantina 12 che non toco una sigaretta sì perché sono stata raffreddata ho smesso di fumare ora magari c'è chi mi scrive ma perché fumare non so non tantissimo cioè nel senso che un pacchetto mi durava tipo tre giorni quattro ma anche cinque cioè la sigaretta dopo il lavoro durante la pausa lavorativa o quando uscivo con gli amici e poi ci sono appunto il ricambio delle cuffiette e niente appunto e questo qui e sono queste qui come si ricarica ah vedi si ricarica da qua qua c'è il cosino per ricaricare vabbè ragazzi io non sono di quelle che cioè fa fa le cose fighe cioè là dovete andare sui canali di altri e appunto sono queste le cuffiette sono proprio carine 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 no queste sono diverse però sono più piccine queste sono più piccine quindi non sono ah eccole vengono sempre 39,99 queste qui ti lascio giù il link nel box informazioni però ecco se scorri se clicchi qui ti si apre proprio la loro pagina e in quel lato c'è questa che sembra ancora più figa non lo so vabbè vai a dare un'occhiata questa mi sembra proprio figa 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 va bene va bene va bene va bene va bene ok andrò a controllare questo voglio fare voglio provare a fare l'impasto sia quindi grazie grazie mille karen grazie mille arbil arbil io le pronuncio una cosa sola voglio provare a fare l'impasto della focaccia per farla domani e in più non so se mettermi a fare la parmigiana vediamo che cosa riusciamo a fare tolgo pure questa piccola premessa che non me ne voglia nessuno per il modo in cui farò la parmigiana di melanzane però io trovo che sia un modo un po' più comodo di farla oltre che un modo un po' più leggero di proporre la parmigiana io sono abituata a un altro cioè proprio te lo dico io che sono abituata a quella classica quella fritta quindi la melanzana impanata e mia nonna faceva una parmigiana che era la fine del mondo mia zia la sorella grande di mamma zia rosa che saluto e visto che so che mia zia Carmen guarda sempre i miei video saluto sia lei che Flavio Flavio amore il mio cuginetto ciao Flavio un bacione grande allora dicevo mia zia si la sa fare però io ricordo proprio quella della nonna ed era un'altra cosa si avvicina tantissimo però quella della nonna era quella della nonna comunque ritorniamo a noi io faccio una variante che veramente mia nonna in questo momento se poco poco mi vede fare questa parmigiana si rivolta dove sta si rivolta allora nel frattempo mi sto bevendo anche questa tisana qui questo infuso che ho preso da da alter ed è questo qui con carcadè che cos'è il carcadè è buono non lo so però è buono è buono è un po' tabaccoso ha un sapore un po' tabaccoso e mi ricorda mi ricorda i frutti rossi però non lo so smettila di grattarti vale allora può essere il carcadè si può essere perché ultimamente mi sta prendendo sta cosa che mi gratto ogni cosa nuova allora e poi un'altra cosa io faccio tutto a crudo che significa si che metto tutti gli ingredienti a crudo però ad esempio questa cosa non va fatta perché ad esempio la salsa tutte le pugliesi ma no ci sta capire si la salsa va cotta mi ricordo che mia nonna stava lì che cuoceva la salsa poi metteva e si friggiva le melanzane e capitava anche che la cuoceva il giorno dopo cioè componeva il tutto il giorno dopo io ho la variante light è più veloce è più veloce da fare cioè 2 minuti e 40 per giustificare il mio una parmigiana veloce allora metto giusto uno strato leggero di salsa ok poi vado a mettere il primo strato di melanzane ho messo una fetina si ho messo una fetina troppo grande no ce la facciamo altra cosa che io non faccio è tagliarle in questo modo infatti troverò dei pezzettini piccoli non le taglio mai in questo modo io le taglio tonde perché mi è più comodo ora non chiedetemi perché ma mi è più comodo poi altra cosa che io non faccio da solito questa la mettiamo alla fine cioè praticamente non è una parmigiana è un'altra cosa no ragazzi davvero cioè io sono abituata a farla diversamente ma perché spesso dico prima della quarantina non ho tempo non ho tempo di stare lì a fare la parmigiana non ho tempo di stare lì a fare cose e quindi mi sono abituata in questo modo sbagliato perché cioè io ho provato a farla la parmigiana come deve essere andata cioè nel senso la parmigiana quella vera è un'altra cosa cioè quindi se volete riprodurre questa fatelo però vi posso garantire che è proprio un'altra cosa la parmigiana quella vera poi altra variante che faccio è quella di mettere il prosciutto cotto anziché la mortadella perché dovrebbe andare la mortadella all'interno però a me la mortadella non mi è mai piaciuta ricordo che anche la nonna se non sbaglio mi sa che la nonna non la metteva la mortadella ci metteva il prosciutto cotto dentro proprio perché a me non piaceva cioè nel senso non è che lo faceva apposta lei lo faceva perché la faceva così però sai non ti voglio dire una cavolata non mi ricordo se metteva la mortadella o il prosciutto cotto ma sono quasi sicura che metteva il prosciutto cotto al posto della mortadella e perché appunto non si sa però so che ci va la mortadella sto mettendo la mozzarella in questo momento so che ci va la mortadella ma a me proprio non piace la mortadella ce l'ho nel frigo è proprio a desiderio che devo mangiare la mortadella altrimenti proprio no 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 allora dopo io li metto praticamente dopo aver fatto questo strato qua metto un po' di pepe un pizzico di sale e rifaccio lo strato con ah è un po' di formaggio mi sono dimenticato mi sono dimenticato il formaggio vado a prendere il formaggio allora pepe non esagero con questo perché si è buono però è veramente forte 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 ed è quello di Lidl poi abbiamo adesso formaggio se ci metti il pecorino ancora meglio questo è il grattugiato italiano io solitamente prendo il pecorino però non l'ho trovato e ho preso questo anche perché stare ore su quel mercato insomma mi sembrava il caso sale e niente continui così con lo stesso procedimento per 3-4 strati insomma fino a quando non finisci le melanzane e comunque io ho aggiunto anche dell'acqua qui dentro perché appunto altrimenti diventa proprio molto molto pesante nel senso c'è la salsa diventa un tutt'uno e ha bisogno anche di un po' d'acqua poco poco non tantissimo perché comunque la melanzana di suo caccia acqua e poi ci sono le mozzarella quindi sì caccia 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 e niente continuiamo così questo è il risultato finale andrà in forno a 170 gradi 180 per 50-60 minuti ragazzi andate un ottimo sentimento cioè aspettate che appunto si fa la crosticina e quando vedete che la melanzana comunque è più o meno cotta potete toglierla e poi farla riposare per un'oretta circa il mio consiglio è mangiatela il giorno dopo infatti io la sto preparando stasera per domani il mio consiglio appunto è mangiatela il giorno dopo perché è più buona e non si sfalda come si sfalda il giorno prima ritornando sempre sulla postazione se c'è una cosa che mi fa proprio impazzire è la panna cotta però sono tipo quattro giorni che passo davanti agli scaffali e dico c'ho voglia di panna cotta e non ho presa quella confezionata ho preso quella in busta in realtà ci dovrebbe essere anche questa è poco invitante vista così è poco poco invitante ma io c'ho proprio voglia di panna cotta che stavo dicendo? che ci dovrebbe essere una ricetta per fare la panna cotta in maniera normale no? cioè esiste se sì e l'avete già fatta fatevi sapere qual è la migliore perché non voglio andare così a scaturatura cioè per non prendere questa già pronta no? aspetta ehm un dubbio? allora no mettiamo prima la panna no versare no aspetta io con la panna ho sempre tanta fatica faccio tanta fatica e poi le due cose devo fare devo versare prima questa la bustina no perché c'era scritto ci siamo andati in diffusione il fatto che prima devi versare ehm c'era scritto o versare 400 ml di panna fresca e 100 ml di latte oppure mezzo litro di latte mezzo litro di panna fresca e io ho pensato giustamente faccio soltanto con la panna fresca tantquattrocento tantcinquecento questo è mezzo litro di panna comunque non va bene che sta uscendo questo mio accento barriese piano piano diceva piano piano vale piano piano mescolare 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 dicevo non va bene che sta uscendo questo mio accento barriese cioè siamo al decimo giorno o al giorno io sto pensando a impazzire domani stavo pensando di non portarvi in cucina perché sto cucinando per boh non so quanti giorni quindi non portarvi in cucina questa me la tengo per domani faccio colazione con la panna corta ma di fare o un decluttering all'interno delle degli scaffali che ho in soggiorno un decluttering io farei un decluttering generale cioè nel senso che mettere lì a fare un decluttering di tutto quello che ho in cucina in soggiorno oppure appunto mettermi in cucina a fare un decluttering qua dentro però di punto è sempre quello non lo so non lo so fatemi sapere con un commentino se faccio un decluttering se devo fare un decluttering in un soggiorno e lì dovrei buttare tantissimi di bui di mio marito perché ne ha proprio tanti 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 e guai che gli tocca guai 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 li adora li adora allora qui deve stare a bollire per due minuti giusto e poi allora versare la crema mettere sul fuoco e far bollire mescolando continuamente quindi continua vale continua per due minuti stiamo registrando a tre minuti un altro minuto e mezzo e poi mi sa che la possiamo mettere nel frattempo qui ho distribuito il caramello che è stato dato in dotazione però questo buchetto qua non ne vuole proprio sapere adesso sto provando a mezz'ora tipo a fare a muoverlo a destra e a sinistra sto svarionando male anche col fatto che mi stanno arrivando dei video sai i video quali stupidi e stavamo pensando ma sta tizia da dove mi è arrivato un messaggio vocale da un amico ma sta tizia tipo da dove viene cioè questi video ragazzi la cosa che ha flashato a me questo mio amico è la porta secondo voi la porta di che partiene perché inizialmente quando ho aperto il video e ho visto la porta prima di sentire l'accento ho detto ma che cosa è in Napoli cioè bella porta napoletana invece no è Bari come è Bari è una porta di stile cioè ci vuole classe bene io penso che i due minuti siano passati secondo me è il CEP comunque cioè ci sto pensando da tipo mezz'ora secondo me è il CEP è roba del CEP sì 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 è roba del CEP però l'accento potrebbe essere anche Bari Vecchia attenzione attenzione potrebbe essere anche Bari Vecchia ok attenzione via con questa in frigo eccola qui è pronta e come vi dicevo se la lasciate rapprendere è meglio perché servita così vi ha cacciato un po' d'acqua e non dovrà cioè nel senso si deve soltanto asciugare comunque questo vlog termina qui questa appunto la mangiamo domani questo vlog termina qui io spero che vi sia piaciuto alla fine non ho fatto più la focaccia semplicemente perché è passato tanto tempo non mi andava neanche di cenare stasera noi stiamo mangiando tutti i giorni ininterrottamente dal 9 e dal 10 quindi è un po' come se fosse un lungo Natale delle lunghe feste niente ragazzi e ragazze io spero che questo vlog vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia se così fosse spolliciate condividete con le vostre amiche ricordate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte e fatemi sapere con un commentino quale video vorreste vedere io vi mando un altro bacione vi abbraccio tutti e ci vediamo alla prossima ciao